Vai! Siamo sulla seconda parte, ti sto facendo vedere il mio motore elettrico. Ricordo che ha 5 marci avanti, 2 marci indietro. E' quello normalissimo da tender o barca a vela per fare le manovre in porto. Gli è stato tagliato la parte superiore e ho conservato intatto tutto il resto. Questi sono i miei cablaggi, sono 4 fili con i Fastom normalissimi da auto, una piccola carrucola per ribaltare il motore e i cavi di comando. Ti faccio fare un giretto per vedere come funziona. Si sblocca, si alza e si riblocca. Questo serve per uscire dall'acqua, per entrare dentro l'acqua e se l'acqua è troppo bassa. Fine parte 2.